L'Angella sembra un po' l'uomo della provvidenza, Milano si è entrato e è cambiata la partita, col Bologna si è entrato, il Bari ha avuto più occasione anche se non abbiamo vinto, tu come ti vedi in questa nuova squadra? Credo che l'importante in questo momento è che il Bari stia andando bene, poi entrare dalla panchina e giocare da primo minuto conta poco, anche se giocare piace a tutti, però in questo momento il ministro e altre idee non ci sono nessun problema e nel momento che vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo per la squadra. Secondo Zenga il Palermo può lottare per lo scudetto, andate sul campo di una pretenente al titolo o no? Ma queste sono cose che se Zenga le vede fa bene a dirle, il Palermo è sicuramente una grande squadra, ognuno fissa un obiettivo, se loro hanno fissato l'obiettivo ci mancherebbe, noi dobbiamo pensare al Bari, dobbiamo salvarci, andiamo in un campo difficilissimo sicuramente, quindi dobbiamo preparare bene la settimana e sapere che ci aspetta una grande gara e uscire da Palermo con dei punti sarebbe sicuramente anche lì una grande impresa.